Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Justin. Una domanda che spesso ci si fa quando vuole dimagrire, bisogna organizzarsi per dimagrire? La mia risposta è assolutamente sì. Questo perché prima di tutto cercare di ordinare la vostra giornata, di organizzarla, vi permette di fare realmente ciò che avete deciso di fare ed avere realmente più tempo per fare tutto quello che volevate fare. Quindi organizzare settimanalmente o giornalmente la vostra giornata sicuramente può essere un buon consiglio per perdere peso, anche perché si sa che essere sempre di corsa dalla mattina alla sera sicuramente non vi aiuta a ritrovare la forma che sperate. Grazie e arrivederci.